Gianfranco Ulisse, qui con noi all'arrivo di Termoli, è davvero un gran piacere. Sì, oggi bella giornata, grande Androni, devo dire che per l'Abruzzo è stata una giornata top, oggi sono caricato al massimo, devo dire un grazie a tutto il team e al grande Venterotti che ci ha onorato di questa bella giornata, sono molto emozionato. Oggi treguardo volante di Crecchio, Simone Pellò per un briciolo non è riuscito a strappare un bancale di Merlò Rosato alla Tenuto Ulisse, è stato un peccato altrimenti ci saremmo ubriacati tutti insieme questa sera, sarà la prossima Gianfranco? Sì, sono contentissimo, dai forse Androni e noi ci siamo. Grazie Gianfranco, grazie. Grazie a tutti.